Secondo punto, proprio per questo mi permetto di suggerire per il futuro al governo di affiancare alla struttura valida che già sta lavorando personalità che abbiano una esperienza nella gestione delle crisi. Fuori di politichese ci vuole uno come Guido Bertolaso a dare una mano a Palazzo Chigi in queste ore, forse ci vuole proprio Guido Bertolaso, cioè una personalità che abbia una capacità di lavorare con governi di tutti i colori e che sia però capace anche di mettere le mani là dove serve, nella comunicazione istituzionale durante la crisi, che è un tema fondamentale, l'abbiamo visto anche stanotte, e dall'altro lato nella gestione dell'emergenza.